Nell'ambito della sezione scientifica mercoledì 14 settembre alle ore 18 si terrà presso il castello Angioino Aragonese un seminario dal titolo La Vestibologia, Stato dell'arte, vertigini e disturbi dell'equilibrio, a cura del professor Vincenzo Marcelli dell'Asla Napoli 1. Tra gli esperti interverranno il professor Eugenio Mira, Università di Pavia, il professor Daniele Nuti, Università di Siena, il professor Davide Samuel Zee, Johns Hopkins University, Baltimora, la presidente dell'Associazione Malati di Malattia, Nadia Gaggioli, il professor Luigi Califano, ospedale Rummo di Benevento. Altra serata dedicata allo sport dopo Gianni Rivera si torna a parlare di calcio con Pasquale Gallo, medico di rara umanità e passione, procuratore di calciatori, osservatore e manager al fianco di personalità come Moggi, Trapattoni, Boniperti e Giraudo. Giovedì 15 settembre alle ore 19 invece, sempre al castello Angioino Aragonese, lo scrittore locale presenterà Io e la Juve, storia di un grande amore edito da Tullio Pironti, libro appassionante e vincente in cui la vecchia signora del calcio è la protagonista assoluta.